ciao a tutti oggi riprendiamo di nuovo in mano il discorso sugli shape layer nella lezione introduttiva che avevo fatto tempo fa vi avevo solo fatto vedere come si creano le varie forme a partire da quelle predefinite cioè il rettangolo l'ellisse il poligono e la stella oppure a partire da quella personalizzata che possiamo ottenere usando lo strumento pennino oggi invece andiamo un poco più dentro la questione cioè andiamo a vedere come si gestiscono le forme una volta che sono state create benissimo direi di cominciare subito allora incominciamo col creare una delle forme più semplici che ha il rettangolo quindi vado nel menu degli strumenti seleziono lo strumento rettangolo e disegno a mano io un rettangolo in questa zona qui benissimo poi non mi limito ad aggiungere un unico rettangolo a questo shape layer ma con un'altra forma predefinita magari questa volta usiamo una stella ecco disegniamo una seconda forma che si va ad aggiungere all'interno dello stesso shape layer quindi clicco in questa zona qui più o meno e disegno una stella a cinque punte in questo caso e mi fermo qua quindi ho due forme entrambe presenti all'interno dello stesso shape layer infatti come potete vedere qui nella timeline io ho una forma chiamata polistar che è la stella e una forma rectangle entrambe all'interno di questa sezione chiamata contents e tutte e due appartengono appunto all'unico shape layer adesso prendo lo strumento selezione e se voglio spostare o ridimensionare soltanto una delle due forme la devo selezionare qui all'interno della timeline cioè se voglio per esempio spostare o riscalare il rettangolo lo seleziono proprio cliccandoci sopra qui all'interno di contents adesso il rettangolo come vedete è selezionato e lo posso prendere e spostare e vedete che sposto soltanto lui la stella è ferma posso anche ridimensionarlo se clicco sul bordo e trascino e se tengo premuto lo shift mantengo anche le proporzioni se invece voglio spostare la stella devo selezionare sempre la stella qui nella timeline e poi spostarla altrove se invece volessi spostare tutto quanto il contenuto dello shape layer allora devo selezionare lo shape layer quindi cliccare proprio il livello quindi qui nella timeline fare clic sulla barra del livello in questo momento adesso è selezionato il livello shape layer che contiene due forme se io clicco e trascino qui nel monitor sposto tutto il contenuto dello shape layer idem se prendo il bordo e dimensiono tutto il contenuto dello shape layer stella e rettangolo insieme quindi bisogna stare bene attenti se si vuole manipolare solo una delle forme contenuto all'interno di uno shape layer la devo selezionare qui all'interno della timeline clicco su polystar sposto la stella clicco su rectangle esposto soltanto il rettangolo bene questa è la prima cosa da tenere a mente la seconda cosa è che esiste una gerarchia all'interno degli shape layer qui infatti vedete che la stella si vede prima del rettangolo ma il motivo per cui si vede prima è perché la stella è in cima alla lista delle forme ma attualmente io posso invertire la situazione se prendo il rettangolo qui dalla lista delle forme e lo porto sopra la stella lo metto in cima alla gerarchia delle forme ed ecco che in questo momento il rettangolo si vede prima della stella e la stella sotto benissimo adesso prima di addentrarci a vedere le proprietà che stanno all'interno di queste forme qua aggiungiamo una terza forma disegnata a mano questa volta usando lo strumento pennino quindi prendo pennino e sempre all'interno dello stesso shape layer disegno punto per punto per esempio una freccia ecco fatto sposto leggermente i punti che ho creato e la rimetto un po a posto più o meno così ok adesso ho tre forme all'interno dello stesso shape layer e la freccia che si chiama shape 1 è prima della lista quindi se la sposto sopra gli altri elementi è la prima della lista benissimo una cosa che posso fare una volta creati le shape layer è rinominarli per esempio shape 1 non è un nome azzeccato per questo oggetto potrei selezionarlo e rinominarlo quindi tasto invio e posso rinominarlo freccia e già che ci siamo rinominiamo anche gli altri rettangolo 1 lo rinomino in italiano rettangolo e per ultimo la stella che è polistar la rinomino stella adesso apriamo il contenuto di queste tre forme quindi clicchiamo sui triangoli a fianco a freccia rettangolo e stella e diamo un'occhiata più da vicino alle proprietà delle varie forme tutte e tre hanno quattro sezioni la freccia ha una sezione path che gestisce la forma della freccia poi stroke che gestisce il bordo il contorno fill che gestisce il colore di riempimento e poi una sezione transform che contiene le proprietà di trasformazione della forma freccia il rettangolo allo stesso modo ha la prima sezione che gestisce l'aspetto del rettangolo poi di nuovo alla sezione stroke che gestisce il contorno una fill e un'altra transform che gestisce le proprietà di trasformazione soltanto del rettangolo e ultimo la stella la prima sezione che gestisce l'aspetto della stella la forma poi lo stroke il fill e transform concentriamoci sulla prima sezione di queste tre forme apriamole tutte e tre quindi clicco sul triangolo a fianco a path 1 e dentro ho un'unica proprietà che si chiama path poi apro quella del rettangolo e quindi proprietà ne ho tre queste tre proprietà le avevamo anche già viste nella lezione introduttiva gli shape layer con queste proprietà io posso appunto modificare la forma del rettangolo ad esempio c'è una proprietà che si chiama roundness che se io modifico mi permette di arrotondare gli angoli del rettangolo ad esempio benissimo nella stella allo stesso modo se apro poly star path o in questo caso un numero maggiore di proprietà perché ho proprietà per esempio che mi permettono di gestire la quantità di punte una proprietà che mi permette di gestire la distanza dei punti interni la distanza delle punte le rotondità delle punte le rotondità dei punti eterni eccetera ma queste cose le avevamo anche già viste appunto come dicevo prima nella lezione introduttiva comunque soffermiamoci sul fatto che le forme che disegniamo con il pennino hanno un'unica proprietà che si chiama path mentre le forme predefinite hanno diverse proprietà a seconda della forma che creiamo il motivo sta nel fatto che le forme che disegniamo con il pennino sono composte da vertici che sono appunto questi punti qua vedete per esempio a questo punto io lo posso prendere e spostare tutti i punti sono accessibili e la proprietà path appunto gestisce la posizione di questi vertici che può cambiare nel tempo mentre invece nelle forme predefinite i vertici che creano la forma non sono accessibili tanto è vero che non compaiono neanche quando noi selezioniamo le varie forme quando seleziono rettangolo non vedo i quattro vertici quando seleziono la stella non vedo i vertici che compongono la stella io la stella il rettangolo posso trasformarli soltanto usando queste proprietà dette parametriche perché si gestiscono attraverso parametri numerici comunque in ogni caso è possibile trasformare delle forme predefinite in forme fatte di vertici come quelle che noi disegniamo con lo strumento pennino e come si fa prendiamo in considerazione il rettangolo per esempio quindi seleziono il rettangolo e per trasformare questo rettangolo in una forma composta di vertici devo cliccare sul rectangle path cioè il contenitore delle proprietà parametriche e con il tasto destro attivare convert to bezier path ripeto clicco sul rectangle path con il tasto destro del mouse compare questa voce qua e la attivo ok adesso la prima sezione delle proprietà del rettangolo non si chiama più rettangol path ma semplicemente path 1 e se io vado ad aprire il contenuto c'è anche qui soltanto la proprietà path e se io seleziono di nuovo il rettangolo adesso si vedo che è composto da quattro vertici e questi quattro vertici possono essere selezionati e spostati naturalmente adesso ho il vantaggio di avere accesso ai vertici ma ho lo svantaggio che non ho più accesso alle tre proprietà che mi permettevano di trasformare il rettangolo per esempio la proprietà roundness adesso non c'è più non posso più arrotondare gli angoli e attenzione questa operazione di conversione da una forma predefinita parametrica a una forma fatta di vertici non è reversibile cioè se adesso io clicco con il tasto destro sulla sezione path non compare una voce che mi permette di ritrasformare la forma in parametrica quindi bisogna stare bene attenti prima di trasformare una forma standard in una forma a vertici la stessa cosa per quanto riguarda la stella io posso cliccare su polistar path con il tasto destro convertirla in besie path e adesso nella stella sono ben visibili i vertici che la compongono per esempio posso selezionare questo vertice spostarlo questo questo spostarla e modificarla come voglio per esempio posso fare una cosa del genere benissimo naturalmente ripeto bisogna stare molto attenti prima di fare una conversione di questo tipo però molte situazioni può tornare comodo per esempio io con il rettangolo una volta che l'ho trasformato in una forma fatta di vertici con lo strumento pennino posso aggiungere altri punti per esempio un punto qui e spostarlo qui fuori un altro punto qui sul lato destro e spostarlo all'interno e avere rapidamente una forma tipo freccia nel quale i lati opposti sono perfettamente uguali e paralleli benissimo adesso vediamo un'altra sezione interna delle varie forme che è la sezione transform quindi concentriamoci sulla sezione transform soltanto del rettangolo magari chiudiamo le proprietà interne di freccia e di stella così ci concentriamo soltanto sul rettangolo apriamo le proprietà di trasformazione del rettangolo e come vediamo al suo interno ci sono le solite proprietà per esempio la position mi permette di cambiare come abbiamo visto prima la posizione del rettangolo senza modificare la posizione degli altri due elementi la scala idem permette di modificare la grandezza del rettangolo e non degli altri elementi la rotazione allo stesso modo e l'opacità allo stesso modo in più qui rispetto alle proprietà di trasformazione normali c'è anche una proprietà che si chiama skew si usa raramente comunque può servire per inclinare e piegare la forma in questo caso me la piega orizzontalmente e infatti associata alla proprietà skew c'è anche una skew axis che mi permette di ruotare lo skew in varie direzioni ma rilazzeriamo il tutto perché non ci serve in questo caso quindi ogni forma ha le sue particolari proprietà di trasformazione e poi come al solito esiste sempre la sezione transform eccola qui in basso generale del livello shape layer che mi permette sempre di per esempio riscalare tutto quanto il livello quindi tutte le forme contemporaneamente la stessa cosa vale per la posizione per la rotazione e per l'opacità ecco in questo caso tra i due trasformo quello generale e quello particolare della forma bisogna solo stare attenti ai due anchor point perché la sezione transform generale ha questo anchor point qua mentre il trasform del rettangolo per esempio se seleziono il rettangolo come vedete ha il suo personale anchor point che è più piccolo che sta qui al centro del rettangolo tant'è vero che se riscalo il rettangolo con la proprietà scala si rimpicciolisce intorno a quel punto mentre se ridimensiono la scala generale del livello si ridimensiona intorno a quest'altro anchor point bisogna però stare attenti che questo anchor point qua lo posso spostare con la palette move anchor point per esempio posso spostarlo nei vari angoli in alto a destra, in alto a sinistra, al centro che in questo caso coincide con il centro geometrico di tutti quanti gli oggetti mentre invece l'anchor point del rettangolo non posso gestirlo con questa palette qua perché questa gestisce solo l'anchor point generale se volessi spostare l'anchor point particolare di questo rettangolo allora sono obbligato a usare lo strumento apposta per spostare gli anchor point che è questo qui in alto posso prendere l'anchor point a questo punto spostarlo dove voglio magari qui sulla punta della freccia e quindi quando modifico la scala delle proprietà di trasformazione del rettangolo si modifica in questo modo qua quindi bene attenti a dove si trovano gli anchor point particolari e generali dello shape layer o delle varie forme bene per oggi ci fermiamo qua nella prossima lezione vedremo un po' più nel dettaglio le due sezioni fill e stroke soprattutto la sezione stroke che ha un po' di proprietà interessanti benissimo quindi allora ci vediamo alla prossima ciao